Kawabonga! Dato che io voglio andare dove mi pare e non andare subito a fare le palestre, perché non fare prima la medaglia del dominante volante? Almeno prendo subito Surf. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Violetto. Come ho detto appunto nell'intro, non voglio assolutamente affrontare la palestra in questo episodio, ma voglio andare a prendere, e lassù si vede una cosa molto interessante, andare a prendere Surf, che si prende battendo il dominante dell'aria. O comunque volante, perché non è un avatar. Però per farlo mi servirebbe, o meglio, mi converrebbe volare a Moldulzia, no? Andiamo qua e poi da qua parto sopra. Eh sì, è facilissima la strada. È abbastanza dritta. Ok. Ah, da qua? Ok, allora, bene. Preferisco fare prima lui perché mi piace così. Non ho voglia di fare subito le palestre, e poi so come farle in fila, ma non ho voglia di farle in fila. Voglio fare il dominante perché mi sa più simpatico della palestra. E poi abbiamo anche altri allenatori da sfidare, che ho visto a scuola, ma tu avrai 30 anni, amico mio. Che carino! Com'è che si chiama? CapsaKid! Ah! Ma perché qualunque cosa io voglia avere viene distrutta? In realtà ci sarebbe un ordine preciso con cui fare determinate azioni, tipo palestre, dominanti e quant'altro. Però bene o male, a parte l'ultimo dominante che so per certo essere tosto, puoi affrontare l'avventura come più ti pare. Quindi c'è la libertà. Ovviamente tu puoi andare dove vuoi, non c'è davvero limite, a parte qualche monte davvero insormontabile, o quel ruscello davvero insuperabile. Però con un po' di impegno ce la fai a superare quella zona, e quindi puoi veramente andare dove vuoi. Diciamo che certe zone sono recluse se non ti ci vuoi impegnare, perché almeno eviti di andare in un punto troppo, davvero troppo difficile per il livello al quale sei sicuramente in quel momento. Quindi ci vuole, diciamo, la mount per facilitarti il compito di 100 volte. E quindi la mount ti aiuta. Però in quel caso, quando arrivi poi nel punto impegnandoti quanto vuoi, però se trovi l'avversario a livello 40 e tu sei al 20, beh, amico mio. Ti va male. No, procediamo per di qua, che non c'è altro. Quindi andiamo qua sopra. Ah, sì, 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 qua sopra. Poi si fa il giro. Questo qui fare l'autostop vuole un passaggio sul mio Pokémon, ma anche no. Bastava un semplice no. Te l'ho detto, no. Oh, bellina però sto paesaggio di montagna, questa stradina così, piena d'erba. Vedi, se si impegnano, ce la fanno. Vedi, Game Freak ce la farebbe anche, ma non ha il tempo di farlo. Eh, potrebbero appoggiarsi ad altri studi. No, non funziona così. Devono pagare. Se voi lavorate in un'azienda, sapete quanto è difficile assumere personale nuovo, sapete quanto è difficile appoggiarsi ad altri. Anche perché i giapponesi hanno questa mentalità, che è appoggiarsi ad altri, quando sei il brand più redditizio al mondo. e sembra quasi, no, una forma di non ce la facciamo, nonostante abbiamo i miliardi. Ah, eccola, è lassù. Guardalo. Fiero. Ma è enorme. Ok che è dominante, ma quelle rocce escono da un punto poco pulito del corpo, quindi non penso siano rocce quelle, ma tipo le pallette che fanno i conigli di Nesquik. La vostra generazione ormai ascolta tutto online. No. No, non tutta. C'è chi dice che... Oh, attenzione, è Pepe, sicuramente. A meno che non c'è una palestra nascosta. Ehi, Link! Il dominante di Cere dovrebbe essere da qualche parte su questa montagna rocciosa. Meglio fare attenzione durante le ricerche. Cadono macigni belli grossi della montagna. Se ti beccano, ti fanno fare un bel volo. Mangroppo a quel Pokémon potresti riuscire a resistere. Mmm, sì. Potrei, effettivamente. Quindi direi di non perdere troppo tempo, anche se qui non si può salire. Ah, forse con la mount per scavalcare le montagne. Chissà. Forse con quella... Beh, per scalare basta, non le montagne per forza. Però qua sopra un girito voglio andare a vedere che c'è. Giro, 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 tondo, casca il mondo. Mi gira la testa, vado giù per terra. Una Pokéball. Vabbè, una caramella rara. Mi butto. E no, c'era un gimmick, Aul. Mi sono buttato, però. Tanto per fortuna c'è il roto. Ehi, tu cosa sei, piccoletto? Allora, andiamo. Guarda, vabbè. Andiamo. Ma, eh... Ste palle seguono un percorso specifico, o...? Paura! Ok, è andata bene. Dov'è il dominante? Ma non ho preparato i Pokémon. Questo mi attacca subito. C'ha la pettorina. Magari, è una cicogna che porta i bambini. Ma guarda, l'entrata in scena non è malvagia. Posso dirlo? Non pensavo iniziasse così la lotta. Pensavo tipo una transizione classica, no? Invece è carina. Guarda quanto danno gli faccio. Eh, questa era da fare infatti presto. Meno male. Ok, quindi questa qui la resisto. Ora lui... Oh! Che dolore! Tu sei volante. Io ho un Pokémon elettro che è Pomi. Ma Pomi prende gli schiaffi da tutto. No, Pomi, l'evoluzione. Si è evoluto. Ho fatto evolvere un po' di Pokémon e ne ho catturati altri. Quindi il livello dei miei Puchimans è salito per forza. E si è evoluto anche Pomi. E c'è anche un'altra evoluzione di Pomi che so come si prende. Link, sei arrivato fino al Pokémon dominante. Quello è il dominante dei cieli, ma... Dove... Sta gi... Vabbè. Ma quindi ero lì a far cadere i macigni. Fortuna che hai attirato la sua attenzione e così sono riuscito ad arrivare senza beccare sassi. A parte che hai fatto il giro lungo. C'era la stradina dietro, ma chissà. Sembra che sia diventato più forte grazie a un potere cibo nascosto. Mi sa che dobbiamo darci da fare. Non lo posso neanche cambiare Pokémon? Ma voi puzzate, eh? Questa notte tutta quanta è in fila. L'altro scappava. Lui quasi sicuramente targetterà a me perché gli sto antipatico. Ah sì? Posso lanciare massi addosso? E allora preparate ad assaporare una marissima sconfitta. Ora che ci penso? Pepe ha una specie di Pokémon nascosto con sé. Quindi magari stavolta lo vediamo. Attacca Knackley. Gli piace il sale a questo Pokémon. Lo aggiunge ai suoi... Ah, brutto colpo. Vabbè, comunque fa male. Oddio se avessi terremoto in questo momento. Terra cristallizzo! Brucia tutto! Fatti valere mio croccomela. Cos'è belletto. Con quel sombrero in testa. In effetti una siesta non ci starebbe male. E non dormo da due giorni. Ah, a parte gli scherzi. Eccola là. Però oddio, non è tanto più forte. 20 PS, quindi... Non è male. Knackley ha battimento ed è fatta. Ti pareva che rimaneva con quello... Sputacchietto di vita. Perché eh, se no non può essere bella. Attacca Alite. Non può essere la stessa mossa due volte di fila, ma... Ciao, eh. Si carica e via. Quindi praticamente prima, con la terra crystal, tu potenzi il... Il... O meglio, fai esplodere l'energia dal copricapo. E poi la spari come attacco. Non male. Ora ha senso il copricapo, ma... Potevano anche evitarlo. Alcuni sono carini, come ho detto già all'inizio della serie. Ma altri non li sopporto proprio. Mi dispiace. Candelabro quasi passabile. Ma quasi. Ma dai, andate alla grande. Ottimo lavoro, Link. Così quei brutti macini dovrebbero smettere di piaverci in testa, no? Quanto pare. La spazia nascosta che ha mangiato dovrebbe essere qui dentro. Se tacciamo il posto prima che ritorni. Mentre nel prossimo video, ve lo dico già da adesso, farò la palestra di Brassius. Quella di Lost Azones. Perché a un certo punto serve. Però volevo prima... Prendere questa medaglia del dominante. Quindi recuperare anche un altro potere di Mirhaidon. Che è appunto Surf, se non erro. Dovrebbe essere Surf. Perché per l'ultima medaglia. Che è quella del Drago. Bisogna appunto usare Surf. E dovrebbe essere questa. Comunque vediamo ora. C'è davvero? È una spazia? Non c'è dubbio. Perché brilla? E quindi si riconosce dalla semplice erbetta che è all'intorno? Quella potrebbe essere menta quella lì in basso. Sì, eh, vai! Grazie Link, è tutto a merito tuo. Eppe, certo. Allora, vediamo che dice il libro. La spazia nascosta amara facilita la circolazione sanguigna. Riscalda il corpo e rinforza le difese immunitarie. O almeno così c'è scritto. Devo preparare un panino per fargli mangiare anche un po' di questa. A chi? Ok, Link. È ora di mettere qualcosa sotto i denti. Aspetta che preparo subito uno spuntino. Combo breaker. Pronti? Ecco una delle mie specialità. Capriccio di spezie in panino farcito. E per dimostrarti quanto ti sono grato, ecco anche una medaglia dominante. Ma puzza quel panino. Che poi lui ha detto che le medaglie dei dominanti sono medaglie che lui ha ricreato usando le medaglie vere. Quindi lui praticamente avrebbe sconfitto le palestre solo per fare le medaglie dominanti. Almeno così sembra. Oppure la solo copiate. Ehi, ci risiamo? Dai, su avanti, chiappa sto panino, va. Mi chiedo cosa succede se dico di no. Forse Pepe gli dà un po' del suo? Oppure facciamo a metà? Cos'è? È un modo per ringraziare? Mi ha fatto bene a prepararne uno in più. L'ha fatto per te, visto che ti sei fatto in quattro per darmi una mano. Non ho pensato minimamente neanche a darla a Miraydon. Per niente, è chiaro? Ne ha fatto uno in più per me, perché io sono un mangione. È in Parasurf, bene. Era ora. Cioè, era ora, ok. Non è che era ora. Non ti sembra che sia diventato ancora più forte? Sì, è così. Lo sapevo, le spezie nascoste hanno un effetto pazzesco. E meno male, altrimenti sai che è perdita di tempo. Ma se ne mangio un altro? Non toccare! Non è per te! Cazzatino? Ah, scusa se ho alzato la voce. Ok, Link. Credo di doverti qualche spiegazione. Vieni fuori. Ma boh, Steve! Ah, l'evoluzione del cane! Ma boia, zio! Che cos'è? Bellissimo! È il mio fido compagno. Ma diventerà anche mio fido? Chiamo fido. Bellissimo! Guarda che pelosoni! Tieni, è un pagnino che ti rimetterà in forze. Ecco qua. Mi raccomando, fai con calma. Mangialo piano piano, un morsetto per volta. Sai, un po' di tempo fa si è ferito molto gravemente e da allora è sempre stato male. Mi hanno detto che non si tratta di una ferita o di una malattia comune. Ma boh, Steve è tutto quello che ho. Gli ho detto che l'avrei guarito a tutti i costi. È tutto quello che ha. Quindi, probabilmente il padre è assenteista. Ho fatto ricerche su ricerche e ho provato tutte le terapie che ho trovato. Niente ha avuto effetto. Era tanto così dal rinunciare, ma... Poi ho scoperto l'esistenza delle spezie nascoste. E quel libro? L'ho trovato nel laboratorio di mio papà. Le spezie nascoste. Nell'area zero scoprimo delle piante straordinarie che se mangiate rimettevano subito in forze. Le chiamiammo spezie nascoste. Le portammo in ogni luogo di Paldea e cercavamo di coltivarle. Tuttavia dei Pokémon divorarono le piantine ingrandendosi al punto che le abbiamo chiamati i Pokémon dominanti. Ma quindi... ne avete prese tante ne avete piantate tante ma solo alcuni Pokémon se ne sono cibati di tutte proprio. Cioè, non ha senso perché ok, i Pokémon mangiano quelle spezie e diventano enormi perché se ne mangiano troppe. Va benissimo, ci sta. Ma... Che fine hanno fatto tutte quante le altre? Avendole divise tutti quanti i Pokémon mangiandone troppe ognuno? Sono scomparse e non hanno attecchito magari al suolo? Non si sa. È un libro su paranormale pieno di storie assurde e tanta altra roba a cui nessuno crede. Ma io penso che siano vere. C'è scritto che se si mangiano tutte e cinque le spezie nascoste si guarisce da ogni ferita o malattia. E in effetti le zampe di Mabostif che erano gelite sono diventate un po' più calde quando lui ha mangiato le spezie dell'altra volta. Ah, è già finito di mangiare? Aperto gli occhi! Cosa? Ma Mabostif non dirmi che ci vedi! Cioè era cieco? Per tutto questo tempo non riuscivi neanche ad aprire gli occhi! Ah, ok! Non sai quanto ero preoccupato! Meno male sono così contento! Sono contento! Slurp! Ha gli occhietti così piccolini che non si capisce neanche quando sono aperti! Mi fa ride sta frase! Queste spezie sono un portento! Lo sappiamo che avrebbe funzionato! Ti porterò in forza Mabostif a tutti i costi e lo farò tornare come prima! E insomma adesso sei tutta la storia! Mancano ancora tre spezie! Diamoci da fare! Datti da fare volevi dire! Allora a questo punto io dico che il video termina qui perché mi sa che abbiamo fatto, no? Oh! Cosa? Hello Link! Sono Turum! Futurum! Miradon sembra aver recuperato un altro potere originario! Sembra che ora tu possa surfare sulla superficie dell'acqua quando si ingroppa al Pokémon! Il che mi permetterebbe di spostarmi in più punti! A dire il vero io sono già arrivato all'Eudapoli ma facciamo finto di niente! Si può arrivare anche senza surf all'Eudapoli veramente quindi non importa tra l'altro mio Dio si scivola Ah! Ora potrei buttarmi nel laghetto e catturare qualche Baskurin vedo lì ok penso proprio che lo farò sapete? Kawabanga! Striccia rossa for the win! Loro possono essere prate di Dondoso e Bomberdier Bomberdier abbiamo appena visto Dondoso è un altro Pokémon quindi Dondoso che bel nome so più o meno nome particolare oddio sono un po' troppi veramente comunque sia per questo video amici è tutto io vi ringrazio ovviamente per averlo seguito non posso fare nient'altro che se non dirvi grazie in descrizione trovate tutti quanti i link utili nel prossimo video palestra di LostAzone se noi ci vediamo ovviamente al prossimo video bye bye